Sapri, Salerno. La Proloco Sapri, con il patrocinio del Comune di Sapri, organizza in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, presso la Casa del Buon Pastore, la mostra, Mai più sole. Cerimonia di inaugurazione domenica 24 novembre 2024 alle ore 17. Sarà possibile visitare la mostra, domenica 24 dalle ore 17 alle 21. Lunedì 25 dalle ore 9 alle 13 e dalle 17 alle 21. Martedì 26 dalle ore 9 alle 13. Lo slogan anche quest'anno sarà, non un minuto di silenzio, ma tanto rumore. Per domenica 24 novembre alle ore 17 presso la Casa del Buon Pastore. Vi aspettiamo.